descrizione del percorso che andremo ad effettuare la prima lezione sarà incentrata sui vari tipi di microfono in modo che sappiate distinguerli e capirne le reali funzionalità e i loro pregi e difetti lezione seconda andremo a vedere come è fatto il microfono dedicato al canto e quali sono gli accorgimenti da adottare per rendere questo microfono perfetto in questo utilizzo lezione terza tratterà l'argomento della direttività del microfono e come sfruttarne le caratteristiche intrinseche di ognuno lezione quarta e su come si usa il microfono e la corretta posizione da tenere nelle varie situazioni lezione quinta parlerò dei casi dove è preferibile utilizzare un radio microfono o un microfono a filo lezione sesta parlerò della necessità da parte del cantante di avere il proprio personale microfono e di come sceglierlo lezione settima si concentrerà sulle varie situazioni di palco in cui vi potreste trovare e di come comportarsi di conseguenza nella lezione ottava alla fine sarà trattato l'argomento relativo a come relazionarsi con i telefonici con consigli pratici e preziosi come reggere con successo questa situazione qualche volta delicata e della più grande importanza per voi e per loro saranno poi a vostra disposizione altre risorse molto utili per voi grazie a tutti